vedi ora quelli che ti parlavano di Invescorp sicuro arrivano loro fonti amici mi hanno detto stanno parlando ora c'è altro giro altra forza Radrizzani manca Eros Lavazzotti e Biancio Antonacci poi siamo tutti è vero che l'ha scritto Bloomberg ma Bloomberg ha più freelancer che scrivono questo è un articolo di un freelancer un conto sono gli articoli di reportage dove poi dopo sono prossimi eh quello che dicono praticamente è prossimo all'ufficialità anche perché un articolo del genere riportò andate a vedere Bezos al Manchester United quindi questi sono articoli di freelancer non tutti gli articoli di Bloomberg hanno la stessa Valenza questo signore ha un patrimonio di quattrocento milioni quindi lui in due settimane vende l'Inz e compra l'Inter hanno fatto vedere un video e passano avanti alla serie dell'Inter qualcuno ha fatto anche edizione straordinaria che spingeva duemila su Invescorp se sei così sicuro di Invescorp perché dici nuove nome nuovo non esiste nessun nome nuovo non siete sicuri nemmeno di Invescorp dopo gli ameliani voi è il cinquantatreesimo nome che state facendo questo è il cinquantatreesimo nome è il cinquantatreesimo nome che avete fatto tra l'altro ho letto non lo conoscevo ma mi sono informato e in questa oretta mi hanno detto che è una fake news chi so io me l'ha detto eh praticamente lui ha venduto il Eleven Sports venderà il Litz e compra l'Inter con trecentosettantacinque milioni di sterline di patrimonio lui compra l'Inter sono circa quattrocento milioni di euro capirete benissimo che questa eh Bertarelli secondo me era più credibile lo stesso Lasri era più credibile hanno preso questo signore non so da dove e ti ripeto un articolo di un freelancer di Bloomberg e un fu fatto un articolo simile su Bezos al Manchester United e Bezos prendeva il Manchester United andate a vedere quindi fateli fateli divertire ora fateli fare i nomi non risulta assolutissimamente come non ci risultava per certi versi la cordata italiana come non ci risulta Invescorp infatti stasera cosa fanno ora abbandonano Invescorp e si buttano su Radrizzani ora perché questi questi sono capaci di buttarsi su Radrizzani dopo che oggi hanno detto i nostri detrattori dopo che oggi hanno detto che se Zang non rifinanzia il bond gli rimangano le vuote di Lion Rock hanno detto questo oggi hanno detto vabbè ma se Zang perde la maggioranza però gli rimane la vuota di Lion Rock non lo sanno che c'è il 99,6% impegno delle vuote Grand Tower è stata fatta appositamente perché contiene anche le vuote di Lion Rock se pensa cosa se questi sono attendibili se meritano donazioni abbonamenti questi ragazzi vi aspettiamo te l'ho detto manca Ramazzotti e Biagio Antonacci però c'è anche un interessamento della OXA e della Bertè vi aspetto alle 21 e 3 in live ciao ciao